Il municipio storico di Teramo, situato in Piazza Orsini e chiuso dal 2016 per le lesioni riportate dal sisma, ha un suo progetto definitivo per poter riaprire le porte all'attività amministrativa, un piano significativo che prevede un finanziamento di 10 milioni e 2, costo aumentato rispetto ai precedenti 7. Ora la palla passa all'ufficio speciale della ricostruzione, che è chiamata a valutare la congruità dei lavori di recupero e la spesa stimata. Entro fine anno, terminati gli adempimenti del caso, dovrebbero partire i lavori. Nel 2018 l'allora commissario Pizzi ottenne una quota di finanziamento per la ricostruzione e l'adeguamento sismico della casa comunale, risorse che non erano sufficienti, perché poi nella fase di sviluppo, dopo l'ordinanza Teramo, emerso che il costo dell'intervento, come era prevedibile e presumibile, era molto più alto rispetto all'importo previsto. Quindi oltre 10 milioni di euro, ecco perché siamo arrivati accelerando i tempi e recuperando le difficoltà pregresse al progetto definitivo esecutivo, 10 milioni e 2. Abbiamo trasmesso all'USR il progetto, c'era già stata da parte dell'USR una sorta di condivisione di massima perché abbiamo condiviso tutto il percorso e quindi siamo ormai nella fase finale che ci consentirà, dopo aver ottenuto i pareri di congruità economica, quindi di valutazione del progetto e rapporto al prezzo da parte dell'USR e della sovrintendenza, con la conferenza dei servizi a chiudere l'itero amministrativo per poi procedere alla gara, ovviamente nella prima parte dell'anno, quindi intorno all'estate, arrivare a mettere a gara il progetto finale. E quanto dovrebbero durare i lavori? Guardi, è un intervento importante, significativo, attendiamo l'approvazione della conferenza dei servizi, è chiaro che è un intervento che sicuramente prevede un cronoprogramma di oltre due anni e mezzo perché si tratta di adeguare sismicamente una struttura importante, una struttura che costituisce anche un aggregato, ci sono interventi significativi anche di demolizione e ricostruzione, abbiamo recuperato il tempo trascorso grazie al lavoro del RUP, grazie al lavoro di tutti i nostri uffici e andiamo avanti in questa direzione.